Didi, un bel successo che ti lancia, che è anche un bel viatico in vista dei mondiali di dati? Sì, sicuramente dà molta fiducia, ho avuto un avversario molto forte oggi con Salvadori che ieri ha fatto un'ottima gara e io oggi sono riuscito a rientrare, ho faticato un po' il secondo e il terzo giro, poi mi sono un po' ripreso abbiamo fatto una gara, ho tirato un po' io e un po' lui, siamo andati i cambi regolarmente e alla fine ho avuto il mello involato su di lui Se ti reduci da una settimana, 10 giorni di preparazione, come è andata la preparazione e quali sono le tue ambizioni per l'ati? La preparazione è andata bene, la condizione spero che sia bene, poi quest'anno è andata un po' così così io ormai posso solo sperare di trovare la settimana giusta ai mondiali e chissà magari viene proprio quella giusta là